Dottoressa Antonello Giordano, direttrice del carcere di Biella, nei mesi scorsi ci sono state delle clamorose proteste, qualcuno ha parlato anche di pericolo sicurezza perché dei detenuti sono saliti sui tetti, ragione non si sapeva, oggi è emerso forse una richiesta di tipo medico. Qual è il quadro all'interno del carcere di Biella in termini di sicurezza e di esigenze dei detenuti? Queste proteste sono state per motivi diversi, quindi non è soltanto il discorso sanitario ma era anche sollecitata una richiesta da parte di un detenuto di un'espulsione. Per quanto concerne la situazione di Biella sicuramente siamo sotto i livelli di sorraffollamento perché abbiamo inaugurato appunto un nuovo padiglione e questo ci consente comunque di portare avanti delle progettualità anche abbastanza sperimentali sul piano della vigilanza dinamica ma che supporta tutta una serie di iniziative che hanno dato la possibilità ai detenuti di avere formazione e lavoro sia come operatori edili che come decoratori e questo appunto ha dato la possibilità a diversi detenuti di poter essere formati e impiegati in attività lavorativa. Il tenimento agricolo per cui abbiamo fatto anche un bando nazionale, adesso abbiamo il nostro capo d'arte, un agronomo e che ci seguirà tutta la parte del tenimento con la possibilità di attività lavorativa per nove detenuti che appunto dal primo maggio verranno assunti e quindi questa è un'ulteriore risposta progettuale e trattamentale verso il rinserimento. In termini di organico del personale della polizia penitenziaria? L'organico dell'istituto di Biella così come l'organico della maggioranza degli istituti del nord sono comunque interessati da fattori di grave carenza, questo è già una nota di saputa, questo ha importato una rivisitazione, una riorganizzazione dell'attività lavorativa appunto puntando in particolare su un altro approccio di gestione di vigilanza che è quella appunto della vigilanza dinamica attraverso il supporto comunque dei sistemi di videosorveglianza. Che sono gli agenti dottoressa? 175-180 agenti, poi in particolare nel ruolo agenti assistenti, abbiamo una carenza di circa il 60% del ruolo ispettore e sovrintendenti e abbiamo una carenza del 70% delle persone del comparto ministeri, quindi cosiddetto amministrativo. Ogni tanto ci occupiamo di casi di cronaca, ci sono episodi di aggressioni all'interno del carcere, si tratta di episodi, il clima all'interno del carcere è un clima di assoluta sicurezza? Assolutamente. Ci sono tensioni tra gruppi di stranieri? Biella ha circa il 70% di presenza di stranieri, la convivenza di diverse etnie trova all'interno del carcere comunque un suo equilibrio di convivenza che è naturale ma forse anche un po' forzato perché giustamente comunque la detenzione obbliga a condividere gli spazi. Si sono puntati in molti progetti multietnici prevedendo la figura dei mediatori culturali e questo comunque ha facilitato sicuramente nel tempo e anche attraverso i percorsi scolastici un approccio alla conoscenza dell'altro. Ringraziamo la dottoressa Antonella Giordano, Paolo Labua di Aro di Biella.